Con il mese di settembre sono arrivate le mele di nuovo raccolto, raccolte ovviamente tutte in Italia, sia in Toscana che in Emilia-Romagna e stanno iniziando ad arrivare in questi giorni anche le prime mele nel nord Italia. Uno dei frutti più comuni, la varietà di mele si distingue soprattutto in base all'epoca di maturazione, estiva, autunnale o invernale e allora impariamo a conoscerle. Le varietà che troviamo in questo periodo sono la Redlicious, la classica mela rossa, che è buona sia da consumare cruda sia da cuocere. Troviamo poi la mela Granny Smith, la mela verde, che è la mela più croccante, più succosa, più frizzante, è indicata sia come frutta fresca sia anche per insalate. Poi troviamo la mela Gala, che è la mela stiva autunnale per eccellenza, è la prima mela che si raccoglie, ha un sapore dolce, ha un sapore fresco e ideale appunto per il consumo, così come frutta, come fine pasto. Troviamo poi già la mela Golden, la mela gialla, in questo periodo anche con una certa rugginosità che generalmente è apprezzata in Toscana. Gialle, verdi, arancioni o screziate, la Toscana fa la sua parte con tanti produttori, soprattutto nell'area del Pisano e in Val di Chiara. Qui siamo andati a trovare uno dei produttori. L'azienda Illuminati si estende su 350 ettari di superficie e la mela è proprio uno dei prodotti più coltivati. Ecco una delle specialità che proprio in questi giorni arriva nei negozi. Si tratta di mela Golden, che in questo caso prodotta in Val di Chiana, espleta la maggior caratteristica dimostrando una certa rugginosità sull'epidermide. Dovuta ad un particolare fenomeno climatologico che si verifica nel post-allegagione, cioè durante il periodo primaverile, una buona dose di umidità al mattino, poi successivamente a contatto con i raggi solari, provoca questa scottatura sull'epidermide del frutto e di conseguenza durante la fase di accrescimento queste piccole bruciature vengono poi dopo ad ampliarsi e produce questa rugginosità diffusa su tutto il frutto. Parliamo di mele, pensiamo subito a quelle del Trentino, ci sono invece anche quelle della Val di Chiana, come si differenziano, quali sono appunto le differenze tra i due prodotti? Senza nulla togliere quelle del Trentino, ma quelle della Val di Chiana credo di poter essere sicuramente, che sono molto buone, come ormai da tanti anni, dopo anche i riscontri oggettivi della gente che compra le nostre mele e poi ne dimostrano. Insomma sono più buone? In definitiva sempre hanno detto questo, possiamo anche confermarlo.